musica salve a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, un nuovo video, nuova recensione recensione di un gioco che si chiama Anna, è un gioco italiano, cioè sviluppato da Join Painters che sono degli sviluppatori italiani è un gioco horror, prima persona un gioco rompicapo, più che altro, perché ci sono tantissimi enigmi in questo gioco cosa vi dico? Allora, prima di passare ai 5 punti del gioco Anna, do qualche caratteristica la tecnica, allora parte il fatto che Join Painters, questo è il loro debutto con Anna che è il loro primo gioco, ricordiamo è un gioco che è stato, la sua uscita è stata ritardata perché non si sa perché, però probabilmente qualche ritardo nei videogiochi succede, certe volte può succedere doveva uscire a giugno è uscito qualche giorno qualche giorno, una settimana e mezzo fa non mi ricordo precisamente, mi sa il 23-24 luglio e vi volevo dire che questo gioco è disponibile a 7,90€ su Zodiac o Zodiac, insomma, che è uno store italiano, su Steam non c'è e vi avviso un'altra cosa prima di dirvi questo vi avviso da subito che ci sono degli spoiler nel video che vi sto facendo vedere perché mostra chiaramente essendo questo un gameplay mostra chiaramente degli aspetti della trama ecco e prima di passare ai 5 punti volevo dire che nella descrizione del video vi metterò il link diretto alla pagina nello store Zodiac di questo gioco, Anna in modo che voi lo possiate acquistare già in italiano con già patchato se non l'avete già preso e dovete fare la procedura che ho visto di installarlo e ristallarlo per avere l'italiano però se non lo avete ancora è normale che chiaramente prendete l'ultima versione che se ve lo installate è già patchata con la nuova patch che è uscita qualche giorno fa quella che include anche l'italiano come testi anche audio allora questo gioco di questo gioco ecco per ora non vi posso non vi dico altro direi di passare ai 5 punti vi ho detto tutto ricordatevi che il gioco è a 7,90€ un prezzo molto basso per circa 3 ore di gioco perché non è un gioco molto lungo però è un acquisto per gli amanti dell'horror su pc windows scusate ricordiamo su pc windows solo pc windows stanno pensando anche a una conversione per mac quindi fan del mac del macbook oppure delle mac non vi preoccupate probabilmente Anna sarà convertito anche per il mac ma non diciamo altre cazzate e procediamo con i 5 punti di Anna bene è arrivato il momento di parlare del gameplay di Anna primo punto della recensione la recensione non sarà lunghissima spero credo perché non abbiamo da dire moltissimo su questo gioco perché non è molto lungo però allora è un gioco che in stile amnesia fa paura ve lo dico perché le atmosfere di questo gioco sono meglio di amnesia sono qualcosa di che non si ritrova perché io giocandolo ho avuto il piacere di giocarlo ho avuto queste atmosfere che fanno veramente paura tantissimo anche io in questo momento non è che ho paura però sono un po' teso in ansia perché comunque vediamo il che siamo dentro la segheria quindi altra area di gioco il gioco si sviluppa solamente fuori e dentro la segheria e c'è questo cambio di ambiente che ha un effetto spettacolare non so se avete notato prima avevamo tutto il paesaggio bellissimo splendente l'erba verde avevamo il cielo era giorno avevamo tanta luce e adesso entriamo in un ambiente meraviglioso nella valle d'aosta mi sembra si chiama i val d'alai ma probabilmente mi sbaglio esiste anche nella realtà questa segheria e anche questo posto nella valle d'aosta gioco ambientato quindi anche in Italia sviluppato da italiani e stranamente è stato portato solamente in lingua inglese prima e poi l'hanno successivamente stato tradotto in italiano e ora abbiamo fortunatamente anche il nostro caro italiano allora sul gameplay vi devo dire alcune cose innanzitutto l'inventario nel quale gestiamo molti aspetti di questo gioco è un po' è un po' fastidioso da usare così come è fastidioso quel menu che abbiamo visto per esempio qualche secondo fa abbiamo visto prima che ci dice use, pick up, examine cioè usa, prendi, esamina e è scomodo per ogni oggetto dover fare questa cosa perché gli oggetti con cui interagire sono tantissimi visto che dobbiamo risolvere enigmi prendendo oggetti mettendoli da una parte e facendo cose del genere però il fatto è che per esempio una cosa strana è il fatto che strana nel senso una cosa è forzati ecco sono forzati gli enigmi perché? vi spiego subito cosa ho detto cosa vuol dire quello che ho detto vuol dire che per esempio io ho visto qualche enigma perché giocandolo chiaramente per entrare nella segheria per esempio c'è un rompicapo diciamo da risolvere che è alquanto strano non ve lo dico in modo che se ve lo volete giocare questa è chiaramente una recensione per chi più che altro non lo conosce non gli interessa comunque anche perché questo gioco difficilmente si termina senza una soluzione ve lo dico ragazzi perché è veramente cioè siccome gli enigmi come avevo detto sono forzati cioè è difficile capire cosa bisogna usare tra le migliaia di oggetti che troveremo pigne accendini tronchi ci sono tanti oggetti in cui interagire e l'utente fa fatica scusate il giocatore fa fatica spesso nel capire cosa bisogna fare in un certo momento e questo è un po' un inconveniente un po' spiacevole come cosa però chiaramente poi cioè non è un problema grosso però qualcuno che qualcuno lo può trovare ecco fastidioso diciamo un'altra cosa un'altra nota nel gameplay a parte che è similissimo a Misia cioè proprio ispirato al 98% ragazzi perché come potete vedere il gameplay è simile molto simile questo gioco ha due punti di forza che non sono il gameplay per il fatto che è un po' scomodo il gioco è un pochino cioè i comandi ecco sono un pochino scomodi soprattutto la gestione dell'inventario come vediamo in inventory vedete bisogna fare delle cose strane per esempio come abbiamo visto stiamo vedendo ora e e invece pecca un po' nel gameplay per questa cosa ma i due punti di forza sono il sonoro con più di 100 effetti ambientali e il team del sonoro è capitato di quelli delle persone che hanno degli sviluppatori che hanno pensato al sonoro di Anna è capitanato da Alessandro Monopoli mi sembra e Monopoli è proprio proprio Monopoli come il gioco e quindi ragazzi che cosa altro vi posso dire del gameplay ah ecco l'altro punto era il sonoro e la grafica l'avete notato sicuramente la grafica di questo gioco è spettacolare fatta con un engine accessibile a tutti cioè tutti voi lo potete scaricare questo engine è normale direte voi sì però per esempio anche io l'ho scaricato e ho provato guardare qualche guida tutorial come usarlo è molto difficile usarlo chiaramente però è bellissimo vedere come si possono fare giochi del genere che anche se dura non dura tantissimo però è assolutamente fantastica un'esperienza da provare per tutti gli amanti dell'horror adesso passiamo al secondo punto e non vi annoio di più col gameplay perché non c'è più altro da dire credo parliamo ora della grafica di Anna come avete già potuto vedere le atmosfere la grafica i colori di Anna sono a dir poco magnifici sono spettacolari sono un piacere per gli occhi perché il tutto oltre a abbiamo tanti poligoni abbiamo texture fatte molto molto bene è tutto riprodotto benissimo a parte che il fatto è che non è un gioco con tanti ambienti quindi possiamo capire che siccome abbiamo solamente la segheria e l'ambiente circostante quindi il giardino dove c'è qualcosa da fare per poter entrare perché quello che dobbiamo fare noi è entrare una segheria fare qualcosa nella segheria e poi ci sono tre finali yeah 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 tre finali non vi dico altro perché chiaramente non vi posso dire il finale ma ci mancherebbe altro ragazzi però vi posso dire che io spero tanto che ah una cosa questo gioco avrà molti gameplay fatti da noi io e niki principalmente probabilmente faremo molto probabilmente dei gameplay di anna e vediamo se riusciamo a finirlo senza cagarci sotto e quindi ecco guardate questo gioco devo dire che cioè fa paura ragazzi però mi ha fatto più paura amnisi a me infatti molti l'hanno criticato per la sua longevità bassa 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 ore per chi sa cosa fare o comunque per chi procede cioè non si blocca nello stesso posto molto e sulla grafica non ho molto 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 da dirvi un'altra l'ultima cosa è che loro chiaramente siccome c'è solamente questo ambiente la segheria sono concentrati tantissimo sui particolari questo è da notare e sicuramente il lavoro che hanno svolto è è da prendere noto cioè fateci un salto nel link nella descrizione del video che vi darò perché questo gioco per 8 euro merita perché comunque io dico 3 ore che è la media 2-3 ore è la media però per esempio a me che sono uno che non capisce mai un cazzo non capisco mai un accidente con tutti questi enigmi soprattutto se poi sono forzati come qui in questo caso cioè si fanno delle cose che a uno non vi verrebbe mai in mente di farle invece bisogna farle per procedere e questo non per non voglio non per criticare il gioco perché molti hanno molti lo hanno acclamato soprattutto perché per il fatto che è italiano ambientato in Italia sviluppato da italiani è un buon gioco ragazzi è veramente un buon gioco infatti la grafica di questo gioco e il sonoro di questo gioco sono fantastici del sonoro ve ne parlerò dopo quindi della grafica ho finito ricordatevi che questo gioco ha una maniacale attenzione per i particolari per gli ambienti il design la ricostruzione di questa segheria nel modo più sinistro e tetro possibile adesso passiamo al terzo punto io vi lascio con la grafica grafica che è spettacolare che merita cioè questo gioco meriterebbe solamente per la grafica più che altro e anche per il sonoro vi lascio subito al terzo punto ecco parliamo adesso del sonoro il sonoro di Anna questo è un punto in cui ci sono più cose da dire abbiamo già detto prima che ci sono più di 100 effetti ambientali infatti il team cioè gli esperti del sonoro che hanno chiamato di musica insomma hanno chiamato questo Alessandro Monopoli che effettivamente si è rivelato bravissimo nel compito di gestire i vari suoni perché poi vi ricordo che inserire dei suoni scusate degli effetti ambientali per questo è un gioco basato su quello perché per far paura hanno puntato più che altro su quello più che come Amnesia sui mostri o anche Amnesia per Dio però Amnesia è più completo come gioco più lungo fa anche un po' più paura a mio avviso poi ogni ognuno la pensa come vuole e cosa vi posso dire sul sonoro abbiamo da dire anche che comunque questo Alessandro Monopoli che era a capo di un gruppo musicale che non è conosciuto per niente però il loro compito è stato svolto egregiamente perché vi dicevo prima mettere nel gioco i suoni nel posto giusto al momento giusto non è una cosa tanto facile e invece in questo gioco pur è una cosa che non vi ho detto questo gioco aveva un budget limitatissimo avevano un budget limitatissimo e sono riusciti a fare un gioco con una grafica spettacolare che si incontra solamente nei giochi più professionali a alto livello con degli effetti come possiamo vedere il fuoco tutto reso molto bene anche tutti i particolari che abbiamo in questa segheria probabilmente per il fatto che loro chiaramente essendo l'unico ambiente del gioco si sono concentrati solo sulla segheria e un po' sull'ambiente circostante mi è piaciuto di più il fuori della segheria perché il dettaglio grafico è migliore e vi posso anche dire che è il punto forte il sonoro è il punto forte di questo gioco forse anche al pari della grafica direi perché la grafica di questo gioco è spettacolare il sonoro ugualmente perché in un gioco horror il sonoro deve essere il punto forte perché se non ci sono effetti tetri sinistri il gioco è una cosa scontata questa che vi sto dicendo il gioco non ha senso come l'abbiamo visto per esempio abbiamo visto ora questa foglia messa su questo occhio avreste mai pensato di fare una cosa del genere beh se avete giocato Anna si se l'avete già finito se invece non avete il gioco forse non come me nel senso questo enigma questo punto del gioco ecco ve lo dico non ci sono arrivato perché mi fa bene vedere un po' di enigmi perché comunque almeno vado avanti anche perché bisogna mettere queste foglie su questi occhi cosa assolutamente forzatissima è incredibile come comunque ogni singolo momento del gioco faccia comunque un po' paura dico un po' perché comunque come vi ho detto secondo me ci sono giochi che fanno come amnesia che fanno molto più paura un altro gioco che fa paura forse come amnesia forse anche di più di questo Anna è among the sleep che uscirà non è ancora uscito nel frattempo chiaramente finitevi fatevi qualche storia alternativa di amnesia e giocatevi questo gioco che merita assolutamente per il sonoro di Anna abbiamo detto praticamente tutto passo al quarto punto la longevità e la vediamo assolutamente ora longevità di Anna tre ore tre finali chiaramente questa è solamente una media matematica che vi dico io però veramente questo gioco essendo ambientato solamente nella segheria già se vi dico questo avete già capito nel senso che avvicino un po' il computer al microfono perché questo gioco non è lungo ve lo dico non è lungo assolutamente la longevità è il punto peggiore di tutti i quattro punti perché poi il quinto sarebbe il voto perché questo gioco si vede che è stato fatto benissimo ma cioè non mi sembra a me un prodotto finito oppure è un prodotto finito cioè in commercio attualmente sul mercato video ludico però secondo me devono fare molto di più speriamo che ci saranno altre patch che io le chiamerei major update perché potrebbero veramente fare le espansioni che dovrebbero comunque durare tre ore quanto è il gioco se non di più però l'espansione dura più del gioco non dovrebbe accadere mai comunque è un gioco che dura poco ma è assolutamente consigliato l'acquisto perché vi spiego l'unico punto che pecca è la longevità solo solo longevità e poi per il resto è tutto ottimo il gameplay è un po' difettoso per un po' di scomodità bisogna prenderci la mano ecco questo dovevo dire bisogna prenderci assolutamente la mano in modo da rendere la vostra esperienza più tetra sinistra paurosa da come la volete possibile e Anna vi aiuta vi aiuta a avere più incubi la notte vi aiuta a cagarvi sotto dalla paura vi aiuta vi aiuta comunque è un gioco che questa cosa la devo dire ci sono giochi molto peggio di questo che anche se sono più longevi sempre horror le stesse categorie insomma concorrenti che comunque non sono dello stesso livello di Anna perché Anna nonostante sia sviluppato da un team di italiani e dico così non per razzismo verso gli italiani anche io sono italiani perché di solito cioè non è raro vedere un gioco sviluppato da italiani insomma poi ambientato in Italia horror stile amnesia quasi non l'abbiamo mai visto e questo è l'esempio come i Dream Painters e sono lanciati nel mercato e hanno fatto veramente spero che facciano un gran successo io faccio questa recensione per farvelo conoscere se non lo conoscete sono fiero di dire che è una delle pochissime recensioni italiane che ci sono e non vi posso dire qual è non è la prima questo di sicuro mi hanno preceduto chiaramente perché io comunque sono lento a fare recensioni sulla longevità c'era questo da dirvi 3 finali 3 ore un gioco che comunque vale 8 euro costa ragazzi 8 euro su Zodiac che comunque è uno storio italiano già in italiano quindi esperienza 100% capite tutto ve lo godete questo gioco che comunque cioè io da fan di amnesia fan di giochi horror in prima persona me lo comprerei non so voi ma io me lo comprerei ecco passiamo al mio voto finale a Anna il giudizio del giudice e finalmente siamo arrivati all'ultimo punto finalmente perché probabilmente vi ho annoiato mi dispiace no scherzo scherzo che cosa dico allora perdonatemi per gli errori questo ve lo dico prima di dirvi il voto sì il voto il voto ragazzi il voto il voto perché è la mia seconda recensione se poi mettiamo anche la preview che ho fatto prima di dirvi il voto vi dico anche un'altra vi do anche un'altra informazione che avrei dovuto fare la settimana che ho fatto la preview di Playstation All Stars avrei dovuto fare anche la preview di Borderlands 2 ma arriverà 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 basta non vi dico altro non vi dico altro assolutamente proprio dovete aspettare più del 20 cioè non prima del 20 agosto però comunque ora già vi ho detto il nome del gioco e sono stato un coglione 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 dire coglione ecco diciamo coglione e basta parlare di cazzate e parliamo del voto allora il mio voto a Anna è 7 l'avete visto nel nella piccola intro che ho fatto per il voto avete già visto il voto è 7 si 7 perché per me questo gioco non può avere più di 7 perché perché ci sono 3 punti scusate 2 punti favorevoli il sonoro e il il sonoro e la grafica invece ci sono 2 punti che c'è un punto e poi il gameplay che come comandi ma quella è un po' mino una cosa che possiamo anche tralasciare poi dipende da persona a persona io li ho trovati personalmente un po' scomodi non so voi molti si sono lamentati di questo fatto infatti e poi la longevità il gameplay e la longevità la longevità soprattutto è la cosa che mi ha lasciato un po' così comunque io il gioco lo devo finire assolutamente non l'ho finito per quanto sono stato già un'ora l'ho passata per cercare di entrare e poi quando sono entrato non è che mi sono cagato sotto ma non avevo voglia ragazzi poi questo gioco dopo fa paura le ultime ore di gioco sono paurose quello che mi hanno detto scusate non fa paura non appaiono mostri così però l'atmosfera di questa segheria non capisco perché abbiano scelto una segheria come location cose loro bene quindi vi do faccio una cosa speciale che non avrei dovuto fare cioè che non dovrei fare do il voto a ogni singola caratteristica perché siccome vi ho detto il voto e vi dovrei lasciare arrivederci e grazie invece io voglio dare anche un voto prima di finire con la recensione di dare un voto a ogni singola feature cioè ogni singola feature ogni singolo punto del gioco partendo dal gameplay il gameplay che deve avere un voto che è 7,5 che non è 8 perché 8 massimo che si può dare più di 8 come fate a darlo cioè 3 ore di gioco una grafica spettacolare però cioè non è un gioco per me non è un gioco finito ecco quindi è anche troppo 8 ragazzi anche se è italiano per me più di 8 non si può dare ecco forse molti di voi la pensano come me ma secondo me più di 8 non si può dare a questo gioco allora poi la grafica grafica 9 9 9 anche 9,5 se vogliamo perché è una grafica assolutamente da gioco professionale da gioco da gioco campione di vendite ecco come per esempio può essere Elder Scrolls 5 Skyrim che tutti chiamano Skyrim gioco campione di vendite recente insomma abbastanza recente nel novembre 2011 e quella grafica di questo gioco ragazzi è migliore a parte Skyrim è grandissimo il mondo quindi hanno dovuto un po' tralasciare il dettaglio grafico delle texture dei palazzi cioè non gliene è fregato se no stavano lì 20 anni allora quindi assolutamente 9 e poi abbiamo il nostro sonoro che è di 8,5 assolutamente impeccabile e poi la grafica chiaramente è un po' meglio è meglio secondo me o si nota di più poi quello è scontato e poi abbiamo la longevità la longevità ragazzi è 6 cioè non è c'è più di 5 perché la sufficienza c'è come guarda io sono il 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 professore dei videogiochi la sufficienza c'è 6 però ragazzi non andiamo non andiamo oltre 3 ore mi capite mi dovete mi capite sicuramente 3 ore di gioco sono poche per un videogioco 3 ore di gioco per un videogioco però il prodotto è compatto il prodotto è assolutamente vale la pena poi 8 euro per 8 euro ne vale assolutamente la pena e fosse in voi lo comprerei io l'ho già fatto aspetto che lo facciate anche voi se vi piace se ora ve l'ho fatto vedere questa recensione l'ho fatta arriveranno spero che vediate anche ecco questo ve lo dico ora al voto un'altra informazione tecnica brevissima e poi vi lascio vi dico un'altra cosa vi lascio cioè che su Zodia su Zodia come accidentaccio si chiama chiamatelo come volete ci sono giochi molto interessanti che non avevo mai sentito quindi andate a darci un'occhiata proprio con l'occhio con la pupilla andate a darci un'occhiata povera annate e e guardatevelo guardatevelo perché merita 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 Zodia come Steam con giochi che non si conoscono e che come Anna che non è non è tanto conosciuto che vanno conosciuti perché hanno un hanno un bellissimo comparto grafico come questo sonoro poi quindi ragazzi vi lascio alla prossima recensione la prossima recensione di cui non vi posso dire niente arriverà spero se ce la faccio con i tempi ero non ho fatto un'altra preview ecco per il discorso ritornando al discorso di prima scusate se ho incasinato un po' i discorsi non ho dovuto fare la preview di Borderlands 2 ma poi sono andato in vacanza proprio quella settimana lì cioè la settimana dopo ho dovuto fare e però e quindi non l'ho potuto fare lo farò e quindi restate sintonizzati sul nostro canale e sui miei video in particolare perché ne arriveranno delle belle delle belle delle belle arriveranno dei video a dir poco spettacolari spero che vi piaccia quindi come sempre alzate i pollici se volete iscrivetevi al nostro canale vi consiglio di vedere anche i miei altri video non vi dico più altro non vi annoio di più ci vediamo ragazzi come al solito alla prossima recensione preview o quello che è comunque sicuramente ci vedremo a un nuovo video ciao a tutti spero che vi siate divertiti ciao a tutti